Allora, lo straight edge è una corrente attitudinale del punk hardcore che per protesta si è astenuta da qualsiasi sostanza che può alterare la mente, ok? Questa cosa è nata perché nei concerti hardcore punk che tra l'altro io, sono concerti in cui io vado, io partecipo attualmente, anzi saluto tutta la scena punk hardcore di Roma e dicevo, è una cosa che era nata principalmente per ribellione all'abuso di droghe perché questi ragazzi entravano negli hardcore show, gli hardcore kids, entravano negli hardcore show e trovavano una persona morta per terra d'overdose, il punk che si bucava in bagno e quindi loro hanno iniziato a dire guardate questo non è hardcore, voi vi state rifugiando in queste cose e noi siamo stufi